Un filato certificato GRS, da lavorare sulla finezza 14 se lo si vuole maggiormente compatto o sulla macchina 12. Costruito Correspan, mantiene la mano morbida e setosa data dalla lana e dal Tencel FSC che ha in composizione, senza mai compromettere una superficie serica priva di increspature. Ordinabile con un minimo di chilogrammi 10, permetterà allo stile di dare molteplici interpretazioni, non ultima quella delle nuove graffie in tasso e jacquard.